C'è un'azienda che nasce circa 40 anni fa in Alto Adige, la nostra casa madre è a Bressanone, dopodiché siamo venuti giù sulla A22, abbiamo creato una sede a Bolzano, a Trento, a Verona e stiamo andando sulla A4 a Venezia e abbiamo anche una start-up a Milano. Questi sono i nostri numeri, abbiamo più di 400 collaboratori nel gruppo, abbiamo superato i 66 milioni di fatturato su 3.700 clienti del gruppo InfoMinds ACS. ACS è la casa madre nostra, si occupa del mondo IT, server, stampanti, tecnologia, hardware, cloud eccetera, InfoMinds si occupa solo del software. InfoMinds di questi numeri ha solo una parte, sempre 40 anni di vita, circa 140 collaboratori più o meno e 13-14 milioni di fatturato e 2.000 clienti nel solo software. Oggi siamo qua, era solo per fare una premessa su chi siamo noi, ma oggi parliamo di soluzioni software per il cantiere. Sebbene Ergo, che è la nostra soluzione software, il nostro ERP sia un vero e proprio ERP, ha il suo interno dei mini dipartimentali, cosa vuol dire che posso anche non prendere tutto Ergo, ma prendere solo una parte di Ergo, tra cui il documentale, che Nicola chiamava fascicolo digitale il cantiere. Di fatto è un raccoglitore di documenti di cantiere, che dopo andiamo a vedere. E tra l'altro di questi vari dipartimentali faremo dei webinar anche a settembre, ottobre e così via, che possono essere molto interessanti. Ergo è nato quasi 30 anni fa nel mondo delle costruzioni, Ergo è nato 40 anni fa e si è specializzato nelle costruzioni 30 anni fa. Oggi vediamo l'ottava versione, la versione moderna, la versione tecnologicamente avanzata e specializzato ovviamente perché è cresciuta fianco a fianco dei nostri clienti, che sono imprese di impiantisti di tutte le tipologie, stradali, aziende che fanno demolizioni, aziende con specializzazioni, perciò pittori, finiture e via dicendo, tutte le persone, tutte le aziende che ruotano attorno al cantiere. Perciò ecco, tra le altre cose abbiamo, scusate, abbiamo due soluzioni, Ergo Mobile Enterprise e Ergo One. Con Ergo One riusciamo a digitalizzare la piccola azienda e con Ergo Enterprise la media e grande azienda. Perciò diciamo che, oltre a tutti gli attori della filiera, riusciamo ad aiutare a digitalizzare anche qualsiasi tipologia di aziende in termini di dimensioni. Qui elenco alcune delle funzionalità di Ergo One, che è il piccolo, perciò sì, possiamo governare i processi del cantiere e dell'azienda di conseguenza, a partire dalle offerte, con l'acquisizione del cantiere, l'apertura del budget, del fascicolo del cantiere, per poi rilevare i costi e per più organizzati possono anche gestire gli acquisti, ovviamente la contabilità dei lavori, sal, per arrivare alla fatturazione e anche alla contabilità generale, per chi ha questa possibilità o necessità. La versione Enterprise ha molti più moduli e funzioni, ma oggi non vi parlo di questo, era comunque per darvi la sensazione di quello che c'è dietro a quello che andremo a vedere. Oggi parliamo del fascicolo di cantiere, che è uno strumento per digitalizzare i documenti di cantiere, che è una sfida che coinvolge i tecnici di cantiere e ovviamente anche il resto dell'azienda. Perciò, oltre ai processi dell'azienda, per fare tutto quello che vi ho raccontato, poc'anzi, abbiamo anche sviluppato tutte delle app, ovviamente totalmente integrate, in modo da interagire su determinati processi o problematiche, necessità dell'azienda. Qui ve le ho evidenziate con dei rettangoli, perciò abbiamo delle app per gestire i costi, abbiamo delle app per fare analisi, abbiamo delle app per fare l'autorizzazione al pagamento delle fatture fornitore o per fare gli acquisti e per gli impiantisti, che tra di voi ci sono gli impiantisti, anche per gestire gli interventi. Noi vediamo quello in basso a sinistra, il documentale di cantiere. Oggi ci concentriamo lì. Perché? Esserci in cantiere in sede, che ormai sta diventando il mio slogan principale, perché ci credo, perché dobbiamo unire il cantiere e la sede. Figure diverse all'interno dell'azienda devono svolgere compiti diversi, questa è la verità, e magari anche con tempistiche e strumenti diversi. Il titolare, l'amministrazione, l'operaio, il capo cantiere. Se ci pensiamo sono tutte figure interconnesse e che hanno bisogno di lavorare assieme per raggiungere l'obiettivo di fare e realizzare il cantiere e magari rispettare anche i termini e tutto quello che è definito. E per questo abbiamo creato sia Ergo, che abbiamo visto prima tutti i processi, che le app che servono per connettere il cantiere con la sede. Buono, partiamo da una consapevolezza, che quando inizia il cantiere l'impresa deve organizzarsi, oltre che per la gestione dell'opera, anche per tenere proprio tutta una serie di documenti che possiamo pensare di dividere in due categorie. Quelli necessari sono i documenti che servono per poter realizzare l'opera stessa, secondo appunto le indicazioni progettuali, e quelli obbligatori, che se non ci sono l'impresa risulta non regolare, multabile, eccetera. Perciò qual è la particolarità di entrambe le tipologie di documenti? Che sono molti e devono esserci. E qui entriamo in ballo noi, no? Per archiviarli, o meglio, mi piacerebbe dire, per tenerli in ordine. Ecco, questa è secondo me la terminologia più corretta, l'utilizzo di un documentale. Detto ciò, sappiamo appunto che nelle imprese di diri e anche imprese impiantistiche, normalmente i documenti aziendali, o se non c'è un sistema gestionale fatto per questo, vengono archiviati e conservati in punti diversi. Chi li archivia sul pc, personale, perciò quello in utilizzo, in dotazione, chi su USB, un hard disk esterno, tanti che può anche andare bene, su siti di condivisione, Dropbox, Google Drive, eccetera. Questa dispersione di contenuti su decine o insomma innumerevoli sistemi diversi impedisce però all'azienda di avere una buona produttività. Tra le altre cose può anche spurla a rischi a livello di sicurezza informatica. Mi raccomando state attenti con i sistemi di sicurezza, parlo di firewall, parlo di antivirus, tenetevi sempre aggiornati. Comunque in questo scenario gli attori che agiscono sul cantiere, anche in amministrazione ovviamente, avranno sempre difficoltà nel reperire i documenti che gli servono, perché non avranno mai la certezza o sapranno dove o come cercarli. Inevitabilmente si creano ritardi, confusioni, attriti anche, attriti all'interno dell'impresa proprio. E per questo proprio il nostro obiettivo è stato questo nel creare il documentale di Ergo, supportato dall'app Ergo Mobile Doc, l'abbiamo chiamata così, per semplificare e automatizzare l'archivazione di documenti aziendali. Nell'obiettivo proprio di massimizzare il valore del documento, delle informazioni, perciò rendere tutto più fluido e semplice, estremamente semplice. Il nostro documentale di fatto viene implementato, come vediamo in questa slide, da due soluzioni complementari. una è quella che noi chiamiamo binder, e non a caso perché binder vuol dire raccoglitore, che è il fascicolo digitale proprio del cantiere, che si utilizza dal desktop, dal PC, proprio dal vostro PC, un'applicazione client. Questo ci permette di integrarci o comunque collaborare al meglio con tutto il mondo Office, Excel, Word, etc., AutoCAD. Ci permette di archiviare le mail da AutoCAD tramite i drag and drop. Mentre l'app permette di gestire e vedere tutte queste informazioni, archiviare nuove informazioni, ovunque vi siate. Foto, note, documenti, direttamente dallo smartphone, smartphone sia Android che iOS. Ho finito adesso, riepilogo i vantaggi. Ho finito le slide, dopo andiamo a vedere proprio in pratica la soluzione. Con un applicativo che vi archivi i documenti, quali sono i vantaggi che avete? Leggiamoli assieme. Documenti sempre disponibili, anche dal cantiere. Comunicazione e aggiornamento immediato. Io so che il documento che è lì è aggiornato. Chiaro che bisogna avere sempre un po' di procedure interne per regolamentare la cosa, perché se no uno continua a salvarsela del suo posto. No, quello deve diventare il repository dell'azienda ufficiale. supporta tutti i formati. Si coinvolge di più proprio tutta l'azienda. Forte aumento del gioco di squadra, perché si collabora e si tirano via gli attriti di cui parlavo prima. Appunto, lavoro direttamente alle cantiere e ho un'archiviazione ordinata, che secondo me è fondamentale. E questo genera efficienza e maggior controllo. Ecco, andiamo a vederlo. Queste sono le due entità, la parte client e la parte app. Elenco qualche funzionalità così, dopo vedendola ce ne ricordiamo. Ho una gestione per cantiere. Infatti lì vedete nel desktop sulla sinistra ho tutti i miei cantieri. E per cartelle. All'interno del mio cantiere ho delle cartelle. Come tra le altre cose siamo tutti abituati a gestire i salvataggi. Probabilmente anche voi sul file system, sul server o sul vostro pc avete una cartella con tutti i cantieri e ogni cantiere ha delle sue cartelle. Può rispettare la stessa filosofia che avete voi. Chiaro? Meglio, perché ogni cantiere che apro eredita automaticamente tutte queste cartelle. Una ricerca full text, perciò vedremo che posso indicare commenti, note su ogni immagine. E con questa ricerca full text va a cercare ovunque, perciò trova facilmente quello che avete, che state cercando. Ricerche per tag. I tag sono degli indici di ricerca, perciò vi permette di filtrare i documenti in modo più scientifico, più veloce anche. Ricerche per periodo, da data a data, l'ultimo mese, l'ultimo ultimo, l'ultimo trimestre, che è importante. Potete inserire dati, caratteristiche, drag and drop da Outlook, perciò trascinare la mail dentro. E trascinandola dentro vedete anche gli allegati, lo vediamo dopo. Potete definire le autorizzazioni per utenti cartella. I tecnici non possono entrare nella cartella amministrazione, esempio banalmente. E dopo l'app. L'app legge e salva direttamente i dati nella parte client di Ergo. Ed è disponibile su Android e iOS. Spero di averle elencate tutte. Comunque adesso andrei a vedere proprio in pratica. Dopodiché rimango, come vedete qua, a disposizione per domande per domande se scaturiscono. Ok, qui vediamo proprio le due entità. Questo è il mio smartphone che dopo lo attivo e qua abbiamo la parte client. Non sto lì a farvi vedere tutto Ergo, non ci interessa oggi, ma vediamo solo la parte documentale. Sulla mia sinistra ho i cantieri, vedete. Io adesso ho selezionato il cantiere 120, ristrutturazione casa di Carmen. Al suo interno ho delle cartelle, elaborati grafici, forniture, subappalti, contratti, contabilità. Tra le altre cose contabilità, sicurezza, pratiche, foto e amministrazione sono in grassetto. Vuol dire che esiste una sottocartella. Esistono delle sottocartelle. Cioè al suo interno della contabilità vedo certificati e sal. Per arrivare al dettaglio finale, dove vedo i sal, registro di contabilità, lo stato avanzamento, vedo quando è stato creato, addirittura chi l'ha creato, se è stato creato o salvato da qualcuno. Torno indietro, nei elaborati grafici vedo tutti i miei elaborati grafici con anche delle note. Disegno mandato da Mauro, in questo caso. È taggato a sbuild. È anche un'importanza. Poco importante, mediamente importante, molto importante. Perciò sia il titolo che le note, che tutti gli altri campi sono, rientrano nelle ricerche di cui dicevo prima. Ricerche che potete fare, come siete abituati, andando a navigare nelle cartelle, oppure selezionando il cantiere e dicendo non mi ricordo dove l'ho salvato, ma so che me l'ha mandato Mauro. Ecco qua che lui cerca la parola che ho scritto qua in tutti i file di tutte le sottocartelle, avendo messo questo flag qua, e di conseguenza mi fa vedere qualsiasi cosa che ho salvato dove lui ha trovato Mauro. Qui l'ha trovato nel da, qui l'ha trovato in Mauro, eccetera eccetera eccetera. Perciò lui cerca ovunque, vedete. Ma io mi ricordo che era una sbuild, perciò vado nei tag e clicco su sbuild. Ecco che mi ha ridotto le ricerche, ok? Ed l'ho trovato. Addirittura potevo filtrare per tipologia di file. Ecco perciò vi aiuta tantissimo quando, quando vi serve sapere un dato. E quest'immagine la devo mandare a Nicola, clicco sulla bustina qua di email e da direttamente ad Aergo, mettendola l'indirizzo email di Nicola in questo caso, manderebbe questo allegato, questo disegno, questo file, all'indirizzo che mi interessa. Perciò questa è la versione client, questa è la versione che dovrei installare in sede per gli amministrativi ma anche per i tecnici che lavorano in sede. In modo che loro cosa fanno? Si devono archiviare, che ne so, una fornitura. Cliccando su questo tastino più, vanno in ricerca nel PC e vanno a selezionare i file e dicono DDT di Alessio. Adesso io non so quello che ho salvato, quello che ho selezionato. Il fornitore mi ha mandato i pozzetti, quelli belli. Ok, salva. In tempo reale tutta l'azienda vedrà questo file. Adesso io non ho selezionato un DDT, è stato il primo PDF che ho cercato. Benissimo, ma a questo punto anche dal cantiere, adesso attivo il mio smartphone, con l'app Ergo Mobile Dock di cui vi ho parlato prima, entro e ho tutti i miei cantieri. Adesso sto cercando il cantiere 120. Ok, il bello della diretta. Un attimo che vedo che forse sono dato fuori internet collegato, non ci siamo. Ok, Ergo Mobile Dock. Perfetto, chiedo scusa. Qui mi trovo le stesse cartelle che vediamo sul PC, vado nelle forniture e mi trovo anche il DDT di Alessio che ho appena archiviato. Clicco sul file, vedo le note, vedo i tag, vedo l'importanza e cliccando sul tastino rosso vedo il file che qualcuno dalla sede ha archiviato su questo cantiere. Adesso tempo tecnico, ma mi sembra che il mio smartphone oggi sia lento. Vedo proprio il file, non è un file piccolo questo qua, perché ha 23 pagine, ma insomma tempo tecnico e vedete quello che è stato archiviato. Perfetto. Ma io dal cantiere, magari sto facendo un rilievo, vado nella cartella rilievi, faccio una foto, adesso io mi sono esposto così vi faccio vedere dove sono, sono dalla sede di Verona, e salvo il nostro file. Eccolo qua. Premendo il tasto ok, qui posso anche mettere delle note. Chiesa di Santa Teresa Verona. Vabbè, molto importante. Lo taggo anche. Gli dico che è un disegno e era per i getti. Perciò ecco, i tag servono per dare delle caratteristiche al file, alla foto che sto salvando. Adesso, premendo ok, tempo tecnico, nella mia cartella rilievi, tutti, ecco qua che vedo la foto che ho fatto adesso. La cosa importante è, primo, ho già la descrizione. So chi l'ha archiviato, Alessio Moretti, e in che data l'ha archiviato. Tra l'altro, i tag è di importanza. Perciò, in cantiere, invece di fare la foto e girarla via WhatsApp alla sede, ho fatto la foto e l'ho già archiviata nel cantiere. Faccio risparmiare tempo alle persone che sono in sede, ma risparmio tempo anch'io perché ho già gestito quella cosa. Perciò mi libero la mente. Ecco, prima vi parlavo di Outlook. Adesso apro il mio Outlook, prendo un file, prendo questo di Mauro, lo vado nella cartella corrispondenza e trascino il mio file qua dentro nella corrispondenza. Salvo e ecco qua che io vedo la mail che mi ha girato Mauro. Vedete, c'è un allegato, un report telefonate con una descrizione. Me lo vedo qua. Vedo la descrizione della mail e vedo il report. Mi ha fatto, si dice in termini tecnico, il detachment della mail. Perciò questo allegato, anche se io, questa mail, anche se me la cancello da Outlook, è salvata all'interno di Ergo. E col doppio clic, prima vi parlavo di integrazione con l'Office, mi apre il mio documento, in questo caso Word. Come se io facessi doppio clic sul .msg, mi apre la mail proprio. Nello stesso caso, se ho un PNG, questo qua sono io sul Bobcat, col doppio clic, adesso me l'ho aperto sull'altro monitor, mi apre il PNG con l'editor che avete installato sul PC. Perciò posso portare delle modifiche, risalvarlo così tutti hanno il documento aggiornato. DVG, anche i DVG, chiaro, devo avere il reader del DVG, gestite anche questo. L'unico limite che oggi abbiamo è che dall'app non si legge il DVG, ma ho visto che tutti generano il PDF e di conseguenza è già una cosa che riescono a bypassare. Faccio un passo indietro sulle cartelle. Prima vi dicevo il discorso delle autorizzazioni. Adesso vi faccio vedere che quando si installa il documentale, si va a insegnare al documentale quali sono le mie cartelle, perché questo è un esempio che ho io. Ma voi all'installazione andrete a insegnare ad Ergo quali cartelle creare automaticamente nel cantiere. E tra le altre cose andate a dire che Alessio è l'utente bloccato per questa cartella, Davide è bloccato per quell'altra cartella. Perciò quello che vi dicevo delle autorizzazioni e delle cartelle, ecco qua come si gestisce questa cosa. Chiudo. Perciò questo si fa un attantum all'atto della configurazione del documentale. Perciò io adesso faccio un piccolo recap sull'app. Una volta selezionato il mio cantiere, in questo caso il cantiere 120, entro nelle mie cartelle. Entrando nelle cartelle o sotto cartelle vedo i file archiviati, vedo eventuali note o vedo il file proprio cliccando sul tastino rosso. Qui posso allegare file, foto dalla galleria, fare foto o allegare file presenti sullo smartphone. Semplicemente cliccando sopra, lui mi fa vedere che nel mio archivio, che ne so, delle immagini, ho tutte queste cose. E voglio archiviare questo. Anche selezioni ovviamente multiple. Posso inserire note del disegno. Sono dislessico oggi del disegno. Applicare o dare un'importanza. Applicare dei tag. Questo era un disegno per Mauro. Visto che parliamo di Mauro. Ok. O fare delle foto, ma l'abbiamo già visto. Stessa cosa sulla parte client. Posso col più allegare immagini come abbiamo fatto prima. Posso trascinare mail. O dal desktop, un attimo che mi sposto alcuni file. Vediamo uno o l'altro. Prendo questi tre file. Control C. O tasto destro. Copia. È la stessa cosa. E vado sempre nelle forniture. Incolla. E gli dico. File. File. Di Alessio. Qui inserisco le note. E salva. Perciò adesso tutti e tre i file. Automaticamente. Hanno tutte le file di Alessio. Qui inserisco le note. Cioè in contemporanea. Ho preso tre. File. E li ho portati dentro Ergo. In automatico. Tra l'altro come. Possiamo fare in modo che questa azione abbia cancellato i file di origine. In modo da avere sempre e solo un'unica fonte dei dati. Adesso io vorrei dire l'ultima cosa. Subappalti. Contratti. Contabilità dei lavori. Sale. Certificati. Fatture. Sia che io faccio ai clienti. Sia quelle che arrivano dai fornitori. Se vengono generate da Ergo. Con tutto il resto dell'IRP. Del gestionale. Finiscono già automaticamente queste cartelle. Se no se avete solo il documentale. Le trascinate dentro. Come vi ho fatto vedere prima. O col tastino più. O col drag and drop da una mail. O col copia e incolla. Che vi ho appena fatto vedere. Dal desktop o da una cartella. O ovviamente tramite l'app. Perché se vi arrivano mail sull'app. Salvate l'allegato. E l'allegato lo aggiungete alla cartella. Come vi ho fatto vedere prima. E' tutto qui. Dove sta l'inghippo. Di creare delle regole chiare nell'azienda. Dopo uno strumento vi aiuta enormemente. Perché se dopo cinque anni. Come oggi sette anni. Sapete che con i bonus dovete tenere archivati tantissimi documenti. Dovete cercare un Asbuild nel cantiere. Ecco clicco. Tiro via qua. Clicco su Asbuild. Clicco negli ultimi tre mesi. O nell'ultimo mese. E seleziono Mauro. E avete trovato subito. Trovato subito quello che cercate. E questo è il valore di un gestionale. Qua di un gestionale per i documenti. Trovare velocemente l'informazione. Che state cercando. Perché? Perché con tutti gli indici di ricerca. Noi siamo veloci. Un gestionale veloce. Andarlo a cercare. Spero di essere stato esaustivo. E mi sembra essere rimasto anche nei tempi. Sono le 17.31. Sono stato fin troppo puntuale. Nicola se ci sono domande. Infatti non capisco cosa è successo. Siamo stati nei tempi. La terza volta di fila. Quindi mi stavano abituando. I colleghi di Verona. Che io sono da Verona. E sono di Verona. Mi dicono che sto diventando un po' troppo. Alto tesino. Nel controllo dei tempi. Ma mi fanno prendere come un complimento. Dico solo l'ultima cosa. Dal punto di vista chi vuole approfondire. Magari portando le proprie necessità. E le proprie richieste. Dopo nel video che vedrete domani. Alla fine ci sono i miei riferimenti. Ci sono i nostri riferimenti. Potete chiedere un appuntamento. Noi senza impegno. Vedete in mezz'oretta. In un'oretta. Ci colleghiamo magari da remoto. Se siamo lontani. Ma banalmente solo per la flessibilità dell'incontro. Così almeno proviamo a calare. Quello che vi ho raccontato oggi. In modo generico. Su una tematica vostra. Questo mi fa piacere. Ed è il nostro modo di lavorare. Sostanzialmente. Ecco.